Come può affrontare, secondo lei, il pagamento di un mutuo, ma anche semplicemente creare una famiglia, una giovane coppia, di fronte al precariato sul lavoro? Beh, intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi problemi. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permettere. Andiamo tutti a quel paese, tutti, a quel paese, tutti, a quel paese, tutti, a quel paese, tutti. Yeah! E con me dico! Let's go!